Musica Lighe Pro il Gubbio crolla 2-0 al Barbetti con l'Ancona, si complica il discorso salvezza stasera Speciale novantesimo in Rosso e il Blu, ore 21 TRG, Serie B, il Perugia espugna il campo dell'Entella ed entra in zona playoff Serie D, terza vittoria consecutiva per il Gualdo Casacastalda, capace di affossare 3-0 la Voluntas Spoleto Foligno, Trestine Sansepolcro KO, Aeromodellismo, Leo Gubino Zeni, protagonista al Mondiale in Polonia Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TG Sportivo, giovedì Santo Amaro per il Gubbio Che cade 2-0 al Barbetti con l'Ancona nella 33esima giornata del girone B di Lega Pro Primo tempo asfittico di emozioni, mentre nella ripresa dopo 3 minuti Vettraino si divora il vantaggio di testa A pochi passi da lori, la partita si sblocca al 77esimo minuto con una superba punizione dal limite di Bondi All'incrocio dei pali che Giannarilli riesce solo a toccare Il Gubbio non riesce a reagire e i dorici raddoppiano all'83esimo con Paponi che di testa infila Giannarilli su cross di Lisai Facendo scorrere i titoli di coda sul match Il Gubbio resta così a quota 39 punti e si riduce a 4 lunghezze ora al distacco dalla zona play-out Prossimo turno domenica 12 con il fischio d'inizio alle ore 18 per un match da non fallire sul terreno del fanalino di coda San Marino Dove mancherà certamente il centrocampista Casiraghi che sarà piedato per un turno dal giudice sportivo Per rivivere Gubbio Ancona con il servizio integrale sulla partita e le interviste post-gara Vi rimandiamo allo speciale novantesimo il rosso e il blu in onda stasera alle ore 21 su TRG Mentre vi ricordiamo che l'appuntamento con il salotto sportivo di fuorigioco tornerà lunedì 13 aprile Sempre a partire dalle ore 21 su TRG Sorride invece il Perugia che sbanca per 2-0 il campo della Virtus Centella nella 34esima giornata di Serie B Grazie ad un gol per tempo firmati da Ardemagni e Falcinelli Ambe due su assist di Faraoni per tre punti che proiettano i biancorossi in piena zona play-off Oltre che far ottenere la salvezza matematica Ma sentiamo proprio sulla prestazione del grifo le parole di Andrea Camplone Mister, complimenti, allora davvero un bel Perugia, siete parsi davvero in forma atletica più brillante rispetto all'entera È stata quasi una partita a senso unico che non ci aspettavamo Sì, abbiamo pagato un po' la domenica scorsa, il carico che abbiamo fatto la settimana scorsa Perché abbiamo incontrato una giornata calda e quindi abbiamo pagato un po' lo 0-0 fatta col cotone Oggi la squadra era molto più in palla, evidentemente questi tre giorni abbiamo lavorato molto meno sul sintetico Quindi abbiamo ritrovato quella brillante che c'erano verso la settimana scorsa Comunque la squadra oltre a questo credo che sia scesa in campo con il pilo giusto, con personalità E abbia fatto la partita che doveva fare Ci ha saputo soffrire i primi 20 minuti dove sapevamo che loro spingero sull'acceleratore E poi si ha saputo uscire a distanza con delle giocate buone Infatti sono venute tutte e due situazioni Adesso non potete più nascondere, siete in lotta play-off Una lotta tra l'altro accesissima che qua in Liguria coinvolge anche lo Spez Sì ma intanto oggi festeggiamo la salvezza, 50 punti, la famosa ruota 50 dove siamo più tranquilli Adesso con questa tranquillità mentale si aprono molti spiagli Adesso sta a noi, sta a noi, far diventare importante questo campionato 29esima giornata in archivio in Serie D Brutto capo per il Foligno a cui non basta l'acuto di Fondi che crolla 2-1 al Blasone contro San Giovanni Valdarno Sconfitta onorevole invece per il Trestina al Franchi contro la capolista Siena Che riesce a vincere di misura grazie alla rete di Mini Cleri nella ripresa Mentre il Bastia, oramai retrocesso, viene superato 3-1 in casa dal Rieti Cade al termine di una gara palpitante anche il Sansepolcro Sul campo del Poggi Bonzi, due volte in vantaggio con Chiasserini e Gorini I Biturgenzi si fanno prima recuperare e poi sorpassare dai Toscani Che conquistano per 3-2 l'intera posta in palio Infine, grande successo del Gualdo Casacastalda Che schianta a Luzzi la voluntà a Sospoleto Conquistando la terza vittoria consecutiva Che proiettano l'undici di Mister Giunti ad un punto dai play-off Allora, vediamo come è andata in questo servizio Un Gualdo Casacastalda inarrestabile Travolge 3-0 la voluntà a Sospoleto E raggiunge quota 47 punti in classifica Ad una sola lunghezza di distacco Dall'accoppiata Massese-Sansepolcro Che si dividono la quinta piazza All'ultima valida per i play-off La scuola di Giunti, con il tecnico che deve rinunciare a Cenerini squalificato Mentre Marchegiani e Gramaccia recuperano solo per la panchina Controlla la gara e dopo una mezz'ora vara di emozioni Si porta in vantaggio grazie a Tomassini Abile a raccogliere un lancio in profondità di Bussi E bruciare Braviglia in uscita Lo Spoleto di Brevi non reagisce Allora prima al 32esimo E Tomassini che sfiora di testa il raddoppio Poi è Bussi su filtrante di Tofoni A cercare il pallonetto Sfera di poco alta Si passa dunque alla ripresa Ci prova Brescia al terzo da punizione Bravini è abile a parare il tiro sulla linea di porta Passa un minuto e lo Spoleto si divora all'occasione del pari Tramontana sbaglia allo stop su pallone di Cirillo E tira addosso a Grossi La sfera non viene liberata e resta in area Di Giuseppe la raccoglie Ma spara incredibilmente alto Al quindicesimo i padroni di casa Chiudono la pratica Lancio di Tomassini per Bussi Che resiste alla carica di Cesari E deposita in fondo al sacco Lo Spoleto accusa il colpo E il gualdo Casacastalda Troverebbe anche il tris Grazie alla punizione di Brescia Al colpo di testa di Tomassini Al tapin di Esposito Il gol però è annullato Per posizione di offside Del centrocampista napoletano La partita continua a farla i padroni di casa Al trentaduesimo però L'arbitro Signor Ledda di Cagliari Accusa un problema muscolare E il gioco viene interrotto Per cinque minuti La sfida corre via Senza particolari sussulti Nel finale però Il gualdo Casacastalda Trova finalmente il terzo gol Minuto quarantasette Canestri scappa via Sull'auto di destra E mette in mezzo Dove Tomassini Libera un destro al volo Che non lascia scampo al portiere Ora A rientro dalla breve sosta Per le festività pasquali Goretti e compagni Sono attesi dall'impegno Sul campo del Gavorrano Per proseguire il cammino Verso la conquista dei play-off Dal calcio alla pallacanestro In A1 femminile di pallacanestro In campo stasera Alle 20.30 Per gara 1 Dei quarti di finale play-off L'acqua sapone Umbertide Che sfida sul parchè Del Talierzio Umana Venezia Le Umbre cercano l'impresa Con Milazzo E Santucci Infortunate Con Robbins E Gamelos Acciaccate La telecronica integrale Del match Andrà in onda Martedì 7 aprile Alle ore 21 Su TRG1 Canale 111 Gara 2 È invece fissata Per mercoledì 8 aprile Alle 20.30 Al Palamorandi Chiudiamo Parlando di Aeromodellismo Per raccontare La performance Del giovanissimo Eugubino Mattia Zeni Giunto secondo Nella propria categoria Alla rassegna mondiale Che si è recentemente Tenuta in Polonia Vi lasciamo Con questo servizio Che chiude il nostro TG Sport Auguriamo a tutti Una buona Pasqua Un risultato Dal grande prestigio Che lascia presagire Un futuro roseo E nell'elite Dall'aeromodellismo Mondiale Per Mattia Zeni Eugubino Classe 1999 La carriera come pilota Di aeromodellismo È iniziata nel migliore Dei modi Tanto da strappare Anche il lusso Della convocazione Da parte dell'Aeroclub Italia Per la rassegna mondiale FAI Che si è disputata In Polonia Nella Bigisi Arena Di Pruskovic Centro a pochi chilometri Dalla capitale Varsavia La chiamata è arrivata Al giovane Uugubino Dopo un'accurata selezione Fatta dalla federazione italiana Che si è presentata In terra polacca Con ben due atleti Ironia della sorte Entrambi Umbri Visto che il nome Dell'altro portacolori azzurro Era quello di Filippo Materazzi Di Terni Categoria senior Zeni Così come il compagno Materazzi Si è gareggiato Nella gara indoor acrobatica Specialità F3P Una specialità Che comporta Un aeromodello elettrico Tecnologicamente Molto evoluto Delle dimensioni Di circa un metro Per un metro E dal sorprendente peso Di appena 60 grammi Compreso anche Della batteria di alimentazione Che mette a dura prova Gli atleti Chiamati ad effettuare Figure acrobatiche In volo Nei due programmi Di circa 4 minuti Di qualifiche di finale La rassegna Andata in scena Dal 14 al 21 marzo Ha visto la partecipazione Di un totale Di 55 piloti Provenienti da 15 nazioni Di tutto il mondo Li spiccavano come favorita Alla vittoria finale Stati Uniti Canada e Giappone L'Italia E in particolar modo Zeni Non hanno però Deluso le aspettative Con Matti Razzi Che ha centrato Il nono posto assoluto Mentre Matti Azzeni Ha trovato un eccellente Tredicesimo posto assoluto Centrando però Il secondo granino del podio Per quanto concerne La categoria junior Un risultato che conferma Le doti in dubbio Del giovane Ugubino Che aveva sposato La passione per questa disciplina Già all'età di 10 anni E che nel corso del tempo Ha avuto la possibilità Di mettersi in luce E farsi le ossa In varie gare Sparse in tutta Europa Non solo nella specialità F3P Ma anche nei maxi Modelli di 3 metri Di misura l'are Ora Oltre alle varie gare In programma In Francia e Cecoslovacchia Il giovane Zeni Mette nel mirino Altri due importanti traguardi L'Europeo 2016 E il prossimo mondiale 2017 E il prossimo mondiale